e ti saluto con la pace del signore e ti auguro un buongiorno e un buon inizio di settimana oggi lunedì 8 di gennaio 2024 sia benedetto il nome del signore anche oggi siamo gioiosi di poter ascoltare la meravigliosa parola di dio e come dice quel canto di inni di lode parla parla signore al mio cuore amen possiamo fare questa preghiera parla signore al mio cuore poiché il tuo servo e i tuoi servi sono in ascolto vogliamo iniziare con leggendo la parola del signore che questa mattina viene rivolta ai nostri cuori proprio in questi termini al presente vediamo colui che è stato fatto di poco inferiore agli angeli cioè gesù coronato di gloria e di onore a motivo della morte che ha sofferto affinché per la grazia di dio gustasse la morte per tutti testo che puoi trovare nella lettera agli ebrei capitolo 2 versetti 8 e 9 ed ancora dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia testo che puoi trovare nel vangelo di giovanni capitolo 1 versetto 16 il titolo di questa meditazione biblica è questo una così grande salvezza gli autori del calendario cristiano il buon seme consigliano una lettura lettera agli ebrei capitolo 2 l'intero capitolo quindi ti consiglio di fare in questo modo metti pausa a questo video vatti a leggere il capitolo 2 della lettera agli ebrei e poi ritorna facendo play di nuovo su questo video affinché tu possa comprendere quale sia diciamo il contesto storico in cui questa meditazione viene incentrata quindi è un qualcosa di molto utile ti consiglio vivamente di farlo e poi ascolteremo ora la meditazione del calendario che dice così la volontaria umiliazione alla quale gesù si è sottoposto lasciando la gloria del cielo per prendere il nostro posto sulla croce e la manifestazione perfetta dell'amore divino per ognuno di noi la parola di dio indica quattro motivi della morte di gesù quattro punti cardinali che rappresentano la sintesi della pienezza di cristo il signore è morto per condurre molti figli alla gloria per distruggere con la sua morte il diavolo e liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la vita è morto per essere un misericordioso e fedele sommo sacerdote nelle cose che riguardano dio per compiere l'espiazione dei peccati perciò egli doveva diventare simile ai suoi fratelli in ogni cosa è morto per venire in aiuto a quelli che sono tentati avendo egli stesso sofferto la tentazione questi sono i benefici i benefici che la sua morte offre a chi crede sì la morte di gesù è un'opera meravigliosa non trascuriamo una così grande salvezza perché ne vale la nostra vita ne vale il nostro futuro ne vale la nostra eternità quindi vogliamo porre la giusta attenzione vogliamo porci nella giusta predisposizione di cuore perché ciò che gesù ha compiuto non è un qualcosa di tanto superficiale ma è qualcosa di molto 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 profondo quindi ringraziamo il dio per questa parola ringraziamo dio per l'opera di gesù cristo che ha compiuto sulla terra e ringraziamo dio per l'opera che per mezzo di gesù cristo dello spirito santo ancora oggi compie sulla terra a favore degli uomini degli uomini che aprono il proprio cuore al signore noi siamo grati per questo e vogliamo dire signore grazie con tutto il cuore vogliamo concludere questo video con una preghiera quindi voglio invitarti a chiudere i tuoi occhi e pregheremo il padre nel nome di gesù proprio come il vangelo ci ha trasmesso signore padre nostro ti vogliamo dire grazie con tutto il nostro cuore come già abbiamo fatto ma vogliamo continuare a dirtelo perché la tua bontà il tuo amore per ognuno di noi la tua cura e ciò che tu hai promesso a quanti si affidano a te è qualcosa di meraviglioso il nostro cuore è pieno di gratitudine è pieno di amore è pieno di grazia signore le nostre parole sono limitate ma tu conosci i nostri cuori e noi vogliamo dirti signore guardaci dentro vedi se c'è in me in noi qualche via iniqua e guidaci per la via eterna signore ti vogliamo pregare in questo momento per tutti coloro che stanno ascoltando questo video questa meditazione questa preghiera io ti voglio chiedere di benedirle di dargli forze nuove anche oggi di aiutarle di consigliarli di guarirle di salvarle di battezzarle con lo spirito santo e ti prego signore mentre che noi siamo alla tua presenza che tu possa operare nei loro cuori con potenza come hai sempre fatto e come tu desiderio fare quindi metto davanti a te ogni mio fratello ogni mia sorella che che in questo momento stanno ascoltando benedicici insieme e accompagnaci nell'arco di tutta questa giornata noi ogni grazia ogni preghiera te la mettiamo nel palmo delle due mani nel nome di gesù benedetto con te in eterno amen amen fratello sorella amico e amica che dio benedica grandemente la tua vita e l'intera tua famiglia ci vediamo domani a dio piacendo al solito appuntamento con il calendario cristiano il buon seme la pace di gesù ti accompagni